lello è arrivato quello che suona la truppa no non ancora vabbè non la faccio io salve fratelli sono toni tamaro e un grande annuncio da farvi il 31 agosto sulle frequenze di kistis napoli comincia il mio nuovo programma dal titolo l'ignorantità l'ignorantità ignoranti di tutto il mondo a unitevi dal 31 agosto dalle 16 alle 18 massimo rispetto vi aspetto lello ho pallano bello